Credo che tutto quello che aveva chiesto che fosse disposta la confisca al pubblico ministero, cioè i beni che erano in sequestro, il giudice ha disposto la confisca. Stangata gli imputati del processo denominato Fort Knox, inchiesta su un traffico di oro per un valore di circa 180 milioni di euro tra la Svizzera ed Arezzo. Il gruppo Marco Cecchi ha infatti disposto la confisca per 198 milioni di euro. Il giudice ha inoltre accettato i patteggiamenti per 33 degli indagati con pene fra sei mesi e due anni e 16 condanne con rito abbreviato con pene tra un anno e due anni. Quattro invece hanno optato per la messa in prova e compariranno di fronte al giudice monocratico il prossimo 8 maggio. Le pene sono tutte entro i limiti della sospensione condizionale, tanto che il giudice ha disposto per tutti i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale. Una decina infine ha scelto il rito ordinario, per loro è scattato il rinvio a giudizio. L'udienza si terrà il prossimo 8 maggio di fronte al collegio. I capi di imputazione sono ricettazione o addirittura riciclaggio. In totale erano 66 imputati in udienza, per tre di loro c'è stata l'assoluzione. Numerosi capi di imputazione, dal riciclaggio alla ricettazione, dall'associazione a delinquere all'evasione fiscale. Il giudice ha dunque accolto le richieste del PM Marco Dioni, ovvero la confisca di tutto quanto era stato sequestrato. 36 milioni all'inizio dell'inchiesta nel 2012, sul più grosso traffico di oro in nero mai scoperto dall'Italia verso la Svizzera. La confisca è stata pesante, ma sostanzialmente corrispondente a quanto già tutto è già posto sotto sequestro. I milioni aggiunti sono ovviamente teorici, non essendo nella disponibilità.